Due conquiste di cui sono particolarmente orgoglioso. La chiusura dell'accordo di programma FAI-Regione Lombardia-Comune di Morazione, a cui poi si è giunta provincia. Ci ha permesso la rigenerazione sociale e culturale urbana del territorio comunale. In questo progetto abbiamo attivato tutto quello che era attivabile nel Comune di Morazione sotto il profilo delle associazioni presenti sul territorio, ma anche e soprattutto per le scuole. E di questo sono veramente orgoglioso perché i ragazzi attraverso il progetto Ciceroni sono diventati protagonisti di un cammino di rigenerazione culturale e di riscoperta delle radici del nostro territorio. Noi ripartiamo proprio da questo. Abbiamo raggiunto un traguardo molto importante perché il tessuto urbano è stato rigenerato attraverso anche grandi interventi edilizi. L'ultimo sarà quello di Opera Pia, che è stato recentemente finanziato con 1.200.000 euro dal PNRR. È un progetto che abbiamo presentato nell'ambito del piano di zona, quindi i 13 comuni del piano di zona di Azzate. 600.000 euro destinati alla ristrutturazione dell'edificio, altri 600.000 euro destinati ai servizi che l'Opera Pia erogherà a favore di tutti gli anziani residenti nei 13 comuni del piano di zona.